La vulvodinia è una patologia che affligge circa il 13-15% della popolazione femminile, vuol dire che una donna su sette ne soffre. La vulvodinia, proprio se andiamo ad analizzare la parola, vuol dire dolore vulvare. La vulva è la zona esterna dei genitali femminili. Questo dolore si può presentare soprattutto durante i rapporti sessuali. Un rapporto che dovrebbe essere piacevole diventa molto, molto doloroso, ma si può presentare anche durante la giornata, ad esempio con il solo sfregamento della biancheria o degli indumenti. La visita per diagnosticare una vulvodinia è semplicissima come una visita ginecologica. Andiamo ad analizzare soprattutto i genitali esterni. Si fa con un semplice cotonfioc. Appoggiando il cotonfioc nelle zone della vulva, io non dovrei provare dolore. Se invece la donna prova dolore in quel punto, vuol dire che effettivamente si può diagnosticare una vulvodinia. In questi casi è sempre bene partire anche da una consulenza di tipo sessuologico e da lì poi verrete indirizzati a tutto il percorso diagnostico e terapeutico da seguire. Quindi migliorare si può. La salute sessuale è importante per star bene con se stessi, ma per star bene poi anche con gli altri e nella vita di coppia. Grazie.